Ciao amici, sono qui per dirvi che da oggi è disponibile il nuovo sito internet di Barbie Show Una Famiglia Imperfetta giù in descrizione c'è il link per andarci non è un nuovo sito internet come vi avevamo detto ma è il vecchio blog rifatto e riaggiornato molto carino e pieno di cose interessanti dove pubblicheremo sempre degli aggiornamenti anche in settimana quindi tenetelo d'occhio quindi non aspettate oltre e andateci subito approfitto del video per comunicarvi che questo venerdì non ci sarà il solito episodio della Famiglia Imperfetta ma uno speciale con l'house tour della mia nuova casa non perdetelo, ciao!